Ora conteremo fino a dodici, e rimaniamo tutti quieti. Per una volta sulla terra non parliamo in nessuna lingua. Per un momento fermiamoci, non muoviamo le braccia. Ma sarebbe un attimo fragrante, senza fretta né locomotive. Saremmo tutti uniti in un'inquietudine istantanea. I pescatori del freddo mare non farebbero male alle balene. E il lavoratore del sale guarderebbe le sue mani rotte. Quelli che preparan guerre verdi, guerre di gas, guerre di fuoco, vittorie senza superstiti, si metterebbero un vestito puro. Camminerebbero con i loro fratelli, nell'ombra, senza far nulla. Non si confonda ciò che voglio con l'inazione definitiva. La vita è solo ciò che si fa. Non voglio saperne della morte. Se non potremmo essere umani, muovendo le nostre vite, forse non far nulla una volta, forse un gran silenzio potrà interrompere questa tristezza, questo non intenderci mai, e minacciarsi con la morte. Forse la terra ti insegnerà quando tutto sembra morto e poi tutto era vivo. Ora conterò fino a dodici. Tu tacerai e io me ne andrò. Questa è una bella poesia, da un volume di poesia che io trovo molto bello, forse uno dei più belli di quelli che io conosco di Neruda. E si intitola Silenzio. Avere il coraggio di di fermarsi, di stare in silenzio e di guardare, ma soprattutto di fermarsi. Siamo arrivati ad un punto nel mondo in cui sembra che fermarsi per un attimo e guardare, osservare ed essere anche prudenti non sia più possibile. Siamo in una macchina che è in una perpetua corsa, questa locomotiva che va che va avanti all'infinito e non si sa dove porta se non che ne vediamo continuamente gli effetti negativi di questo affacendarsi, di questo muoversi in continuazione. Gli effetti negativi nell'ambiente, nella natura, nel nel mondo in cui viviamo tutti quanti e non riusciamo a trovare un momento di un luogo di fermata, una stazione. Non so se vi ricordate direttissimo di di Dino Buzzati, no? Questo questo treno che che corre all'impazzata è e che è sempre in ritardo, insomma, no? Intanto la vita scorre, la vita passa e il viaggio continua alla ricerca di non so che cosa. Ecco, sembra che siamo che il mondo sia un po' a questo punto ma poi forse interviene qualcosa che lo costringe a fermarsi e questo è vissuto come un grande problema perché non non abbiamo più imparato a fermarsi. come in una macchina, insomma, in un momento c'è un momento in cui c'è bisogno della manutenzione, della riparazione, in cui bisogna che questa macchina sia ferma ma la nostra macchina umana non è capace di questo momento se non costretta da cause di forza maggiore. Io potremmo mettere insieme alcune considerazioni in questo video non tanto mie ma e ovviamente capite che si riferisce alla situazione attuale insomma che che noi in Italia stiamo vivendo ma che il mondo sta vivendo e ovviamente noi italiani vediamo di più le conseguenze italiane. Vediamo di mettere insieme alcune cose una cosa che ho trovato in un post di Facebook scritta da qualcuno che vive a Venezia Venezia oggi è bellissima senza sgomitate tra la folla senza inquinamento tossico senza moto ondoso è bellissima per camminare correre vogare giocare portare i bimbi al parco nonostante i proclami di un'economia al collasso per le disdette da tempi immemorabili non mi ricordavo una città così vivibile sarebbe bello poter ripartire da qui per ricostruire una città vera e propria dove i bed and breakfast tornano ad essere case i plateatici spazi di gioco e di incontro i magazzini laboratori artigianali le gondole e mezzi di trasporto a impatto zero anche perché le transizioni morbide sono sogni ipocriti non sono che le crisi a veicolare il cambiamento anziché chiedere fondi pubblici per tamponare le perdite di scommesse imprenditoriali miopi nel brodo della monocultura sarebbe davvero bello cominciare a cambiare finalmente il sistema il turismo non ha futuro che che ne dicano gli economisti non è sostenibile presto o tardi la pacchia finirà e allora sì sarebbe proprio bello ricominciare da qui e un altro post dello stesso autore ieri al bar dietro un panino alla porchetta una signora mi ha detto che bisogna chiudere tutte le frontiere perché è necessario proteggere il nostro popolo come se il nostro popolo non fosse da sempre diasporico e metizio qualsiasi cosa esso sia per poi aggiungere comunque che è assurdo e inaccettabile che Veneti e Lombardi rischino di non poter più viaggiare fuori regione vogliamo viaggiare ma impedire agli altri di farlo vogliamo i turisti cinesi per i quali li convertiamo interi quartieri una guida turistica si lamenta con tutti i musei chiusi si è giocata la stagione l'economia monoculturale scricchiola come non si sapesse da sempre che puntare tutto su un settore psicotico è variabile come il turismo è un suicidio collettivo al supermercato gli scaffali sono quasi vuoti mancano tutti i beni a lunga conservazione tranne le farfalle barilla che evidentemente fanno proprio cagare la coda alla cassa è lunghissima ma in modo strano le persone stanno a distanza di almeno un metro e mezzo l'una dall'altra la gente ti guarda negli occhi ti chiedi se sta cercando di capire dal tuo pallore a quanti gradi stai hanno carrelli pieni in modo esagerato non mangeranno mai tutto quel tonno in scatole entrano due cinesi cala un silenzio sinistro un po' imbarazzato di esserlo per strada citando di Andrè le facce non hanno un bel colore si cerca di non sfiorarsi tra le calli ti si saluta da lontano la mucchina scivola fuori da una tasca e le mani si sfregano in una disinfezione compulsiva sul vaporetto un'anziana si è messa un sacchetto trasparente in testa forse avevano esaurito le mascherine sembra una medusa con la cotonatura una bimba mi guarda mentre vogo il volto coperto da una mascherina troppo grande mi fa un cenno di saluto mentre la mamma la sgrida per essersi allontanata troppo e aver toccato il corrimano del ponte qui chi non terrorizza si ammala di terrore da Venezia per ora è tutto mettere insieme alcune cose lo scopo di questo video un po' di cose molto molto disparate questa poesia di Neuda questo scritto da da un veneziano da una veneziana e poi anche altre cose per esempio questo questo scritto di di Hugo tratto dai miserabili per chi volesse saperne di più della citazione vada alla parte quarta dei miserabili e si legga il libro primo allora dice Hugo in una delle sue riflessioni che troviamo in questo splendido libro che vi invito a leggere magari ad ascoltare nella natura che ne sto facendo e che ci aiuta molto a capire anche la realtà contemporanea cioè le costanti che animano i vari aspetti della realtà insomma come noi umani affrontiamo le cose i problemi la politica i nodi del nostro vivere dice Hugo negli eventi Dio abbandona gli uomini alle sue volontà visibili testo oscuro scritto in una lingua misteriosa gli uomini ne fanno subito delle traduzioni traduzioni semplici scorrette piene di errori di lacune e di controsensi ben poche menti comprendono la lingua divina diciamo la lingua della verità in qualche modo le più sagaci le più calme le più profonde decifrano lentamente ci vuole tempo capacità di osservare per decifrare i fatti le cose che accadono soprattutto quando sono sconosciute continua Hugo quando arrivano con il loro testo il lavoro è fatto da tempo ci sono già venti traduzioni sulla pubblica piazza e da ogni traduzione di questo fatto da ogni interpretazione diciamo così noi scrive Hugo nasce un nuovo partito da ogni controsenso una fazione una parte e ogni partito crede di avere il solo vero testo e ogni fazione crede di possederne la spiegazione spesso il potere stesso è una fazione nelle rivoluzioni poi ci sono dei nuotatori che vanno controcorrente e questi sono i vecchi partiti Hugo si aiuta a capire come per analizzare un fatto nelle sue implicazioni nelle sue nelle verità che esso contiene insomma nel significato profondo che contiene il suo inserirsi nella storia del momento e per noi questo momento e questa storia è fatta di di un andare continuo non si sa dove no? di un affacendarsi continuamente in nome dell'economia in nome di una ricchezza che si deve produrre e che non e che non è distribuita bene no? e che quindi crea disuguaglianze sempre più più grandi e nello stesso tempo anche crea disuguaglianze senza più sempre più grandi allora in questo inserirsi dei fatti che hanno magari una loro logica in una mente più alta per chi crede nella mente di Dio per chi non crede nei fatti che sono impliciti alla natura alle leggi che governano il mondo ecco questi fatti sono spesso difficili da interpretare soprattutto all'inizio si vuole anche una sagzezza di fermarsi e di osservarli ma quello che fanno in realtà è costringere a un momento di silenzio di riflessione guardare far scattare il dubbio almeno nelle menti che pensano che un momento di riflessione di silenzio sia importante per capire ma anche per sapere che ci si può fermare che si può cambiare indirizzo cambiare rotta in un momento in cui si percepisce che questa rotta porta in luoghi che non è piacevole pensare o raggiungere insomma ha una destinazione incerta e forse non troppo felice per l'umanità nel suo complesso sapersi fermare ripensare l'altra considerazione è che che in questo momento stiamo assistendo a un evento questo del coronavirus che ci colpisce tutti quanti e che ha un effetto potenziale cioè è un nemico che sta in qualche modo un po' alla volta prendendo più parti del mondo interessando più parti del mondo contro il quale non sappiamo ancora bene come comportarsi non l'abbiamo ancora individuato bene questo nemico scatena tanti modi di pensare tante fazioni e queste fazioni trovano in qualche modo un momento di scontro stanno trovando un momento di scontro ma le due fazioni più importanti che a me sembra di vedere sono quelle che che riguardano uno l'interesse che ha la nazione insomma oppure singolità nei confronti della salute dei cittadini e quindi l'interesse a protezzere la salute e l'altro a protezzere gli affari l'economia cioè lo scontro che noi vediamo a cui assistiamo in questo momento è uno scontro tra chi è più interessato all'economia alla dinamica dell'economia che quindi non si può fermare non si può permettere un momento di riflessione causa perdite ingenti causa il crollo delle borse tutto quello che ci va dietro e chi invece ha come interesse prevalente diciamo la salute pubblica considerando meno importante l'andamento dell'economia rispetto al bene della salute pubblica della salvezza generale qui poi sta il problema per noi perché queste due fazioni poi sono capaci di controllare l'opinione pubblica quindi ci danno le informazioni e le informazioni che sentiamo sono spesso pilotate da interessi nel mio piccolo mi sto accorgendo che la cronaca insomma si sta spostando dai primi giorni in cui ci venivano forniti dati molto più più stretti molto più ravvicinati sull'andamento della salute adesso si sta più spostando sul campo dell'economia si cerca di e ovviamente cosa fa l'economia deve cercare di minimizzare le conseguenze del virus e deve cercare di dirsi che tutto è normale insomma che siamo nel campo di una banale influenza che la vita può ricominciare che non c'è pericolo che si può tutto quanto fare chi è attento alla salute invece cerca di guardare di più ai dati dell'epidemia insomma allora quando si guarda ai dati dell'epidemia secondo me è più interessante non fermarsi soltanto visto che la minaccia è quella di una pandemia mondiale pare che non lo siamo ancora ma è possibile che lo diventiamo e quindi non fermarsi soltanto ai dati in Italia ma guardare come questa questa diciamo epidemia si sta diffondendo nel mondo sta uscendo dalla Cina in cui c'era comodo pensarla pensarla isolata e contingentata e sta riguardando il mondo più in generale ovviamente l'uscita dalla Cina è recente e quindi siamo ancora in una fase iniziale da questo punto di vista in Italia abbiamo visto i casi salire in una settimana dal primo caso a oltre 800 i morti anche insomma prendere una misura un po' più consistente 21 morti però secondo me è importante o perlomeno io personalmente non so voi fate come volete ma io personalmente cerco di osservare di più diciamo quello che quello che dice l'organizzazione mondiale della sanità la la carta della diffusione mondiale è cercare di analizzare di più di attenermi di più rispetto a quello che si dice in Italia a quanto viene riportato di ufficiale dal diciamo controlla e che mappa tutti i vari focolai nel mondo allora lì si vede una crescita diciamo progressiva no dei casi che si sta come dire che sta crescendo di giorno in giorno come è normale che sia rispetto a una a una forma epidemica non chiamiamola ancora pandemica ma che i casi si stanno diffondendo sempre più nei vari stati del mondo e volendoli è anche possibile secondo me su numeri più grandi che adesso superano gli 80.000 casi nel mondo è anche possibile farsi un'idea a posteriori della mortalità di questa di questa epidemia che anche questa è la mortalità diciamo i dati sulla mortalità che è intorno al 3% ma che sta crescendo progressivamente di giorno in giorno nella proporzione per esempio oggi calcolando sui dati totali degli ammalati nel mondo diciamo così degli affetti nel mondo quelli che si conoscono i morti diciamo così confermati insomma in questa mappa siamo al 3,4% che io ritorno a dire anche in questo video se si dovesse confermare una mortalità alta per un'epidemia che minaccia di diffondersi nel mondo dopodiché cercherei di essere più attento a quanto dice l'organizzazione mondiale della sanità più che non diciamo agli interessi delle varie fazioni o dei vari individui che vengono continuamente intervistati e che magari hanno paura ci rimettono di fatto ci rimettono in questa fase insomma no e alle risposte che il governo poi darà ai singoli ma io personalmente sono più interessato alla salute cioè credo che qualsiasi ricchezza non tenga rispetto al valore che ha la vita tengo anche che il ragionamento di chi dice sì ma è una cosa che riguarda solo i vecchi almeno per quello che riguarda l'Italia insomma anche questo non tenga insomma io credo che se se muore un vecchio non ci sia molta differenza come se muore un giovane insomma nello stesso modo come insomma chi uccide un vecchio non è meno colpevole di uno che uccide un uomo maturo diciamo così o un bambino il fatto che muoiano o che siano morti prevalentemente persone vecchie già con altre patologie non è secondo me meno grave forse perché sono vecchio anch'io insomma ma non è meno grave rispetto al fatto che che si muoia insomma ognuno ha diritto di vivere la sua vita più che può e quindi che la sua vita non sia sacrificata ad interessi di tipo economico io penso che il mondo si deve anche poter fermare per un po' guardare capire meglio il nemico che ha di fronte e trovare le strategie giuste per salvare le proprie vite prima di salvare il proprio benessere che si può vivere anche con un po' di meno ma che si deve prima di tutto poter vivere che la salute pubblica debba prevalere rispetto a tutte le altre considerazioni di tipo economico che pur vengono che pur sono anche importanti ma alle quali non si può sacrificare il benessere pubblico e che come si dice a volte un momento di pausa può anche permettere di riflettere meglio su quelli che sono i valori quelli che vanno conservati ma quelli che anche invece sono falsi valori e che forse questa questo fatto si potrebbe dare l'occasione per ripensarli per vederli in modo diverso per capire meglio per riflettere un momento su dove stiamo andando ecco e che forse magari qualcosa magari anche l'ambiente potrebbe averne quelle balene che dice che dice Neruda potrebbe averne per un attimo giovamento no? rispetto a questa continua cazza che se ne fa allora diciamo che la fonte forse alla quale vale la pena riferirsi di più sia quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ultima modifica 28 febbraio 2020 quindi ieri perché oggi è il 29 febbraio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha alzato il fattore di rischio dell'epidemia da coronavirus da alto a molto alto lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che non è un ente così lo ha affermato durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'epidemia ma dice questo non cambia l'approccio alla situazione continua ad essere prioritario contenere la diffusione del virus quindi tra tutte le misure diciamo così soprattutto anche rispetto a quelle che ci vengono decantate viene passata la parola dai politici ai virologi e i virologi spesso ci dicono come le nostre strutture sanitarie siano eccellenti e ammirabili nei suoi comportamenti come c'è un'abnegazione di medici infermieri e così via però noi sappiamo anche che il virus non ha una terapia insomma no si può le organizzazioni sanitarie possono cercare di sostenere le funzioni vitali ma non c'è una cura rispetto al virus non bastano di per sé a contenere la diffusione del virus la diffusione del virus va contenuta dal punto di vista epidemiologico la trasparenza è fondamentale se si intende rimanere in democrazia è fondamentale che i dati reali ci siano forniti ci siano forniti anche in tempo reale altra cosa che vedo è come mentre prima gli aggiornamenti venivano dati anche di ora in ora già dopo una settimana la comunicazione ufficiale tende ad essere data sempre diciamo alla fine della giornata in maniera molto più prudente insomma no ho sentito anche di una riunione fatta con i dirigenti della RAI perché la RAI contenga anche le informazioni che possano creare panico diciamo così ho visto anche uno spostarsi dell'informazione della RAI dalle conseguenze di tipo sanitario alle conseguenze di tipo economico no un virale da questo punto di vista l'ago della bilanza dell'informazione si è spostata più sulle conseguenze economiche che sulle conseguenze sanitarie per riprendere sempre le dichiarazioni dell'OMS dell'organizzazione mondiale della sanità si dice che il rischio è collegato alla diffusione del covid-19 in un numero maggiore di paesi non dimentichiamoci che noi siamo collegati ormai insomma il mondo di adesso è fatto di un continuo collegamento tra i paesi tuttavia nonostante il numero crescente dei nuovi contagi al di fuori della Cina parlare di pandemia non è corretto e non è utile pandemia vuol dire una situazione morbosa che riguarda il mondo nel suo complesso cioè tutto il mondo è preso il termine pandemia è colloquiale si parla di pandemia di obesità per esempio ha aggiunto Michael Ryan direttore esecutivo dell'OMS in questa fase bisogna andare oltre i termini colloquiali cioè bisogna essere precisi anche nelle parole che si adoperano parlare di pandemia da coronavirus significa che ogni persona nel mondo è potenzialmente esposta al contagio e l'esperienza della Cina ci dice che non è così poi prosegue i nemici peggiori in questa fase sono paura sono voci senza fondamento e stigmatizzazioni ricordiamoci delle famose fazioni che citava Hugo i nostri più grandi asset sono fatti ragionevolezza e solidarietà ha concluso Ryan ci sono dieci regole a cui attenersi per tentare di arginare la diffusione del coronavirus l'ha elencata lo stesso direttore generale dell'OMS in primo luogo come continuiamo a dire lavatevi regolarmente le mani con soluzioni a base di alcol o acqua e sapone toccare il viso dopo aver toccato superfici contaminate o persone malate è uno dei modi in cui il virus può essere trasmesso in secondo luogo pulire regolarmente le superfici con un disinfettante ad esempio banchi da cucina e scrivanie terzo essere informati su covid-19 assicurandosi che le informazioni provengono da fonti attendibili e lo sto citando le fonti dell'OMS tutti dovrebbero conoscere i sintomi per la maggior parte delle persone inizia con la febbre e una tosse secca non un naso che cola la maggior parte delle persone ha una malattia lieve e migliora senza bisogno di cure particolari e in quarto luogo evitare di viaggiare se si ha febbre o la tosse e se ci si ammala durante un volo informare immediatamente l'equipaggio una volta arrivati a casa contattare un medico o informarlo su dove si è stati in quinto luogo se tossisci o sternutisci fallo nella manica o usa un fazzoletto poi si deve smaltire immediatamente il tessuto in un bidone della spazzatura chiuso quindi lavarsi le mani in sesto luogo se si hanno più di 60 anni o una condizione di base come una malattia cardiovascolare una condizione respiratoria o il diabete si ha un rischio maggiore di sviluppare una malattia grave occorre evitare il più possibile i luoghi affollati settimo per tutti se non ci si sente bene si deve restare a casa e chiamare il medico ottavo se sei malato resta a casa e mangia e dormi separatamente dalla tua famiglia usa diverse utensili e posate per mangiare nono se soffri di respiro corto chiama il medico e cerca immediatamente assistenza infine decimo conclude il direttore generale dell'organizzazione mondiale della sanità è normale e comprensibile sentirsi ansiosi soprattutto se si vive in un paese o in una comunità colpiti scopri cosa puoi fare nella tua comunità e discuti su come stare al sicuro con il posto di lavoro la scuola o i luoghi di culto leggo anche un commento che mi sembra anche confermare quello che cercavo di dire prima se il coronavirus fosse libero di circolare con i nostri mezzi di trasporto in pochi mesi infetterebbe il 100% della popolazione mondiale forse non il 100% ma una buona parte il sistema immunitario dell'uomo non ha ancora costruito le difese dal coronavirus ammesso che ci riesca perciò concedere libertà di propagazione del coronavirus significa creare milioni di malati che morirebbero in strada perché basta molto meno per paralizzare il sistema sanitario a una settimana dalla comparsa del coronavirus politici e mezzi di informazione hanno iniziato a sdrammatizzare una situazione definiti psicosi collettiva per paura della recessione e questo fatto è molto grave perché senza massima prudenza e grandi rinunce la gente inizierà a morire in massa e poi le autorità nasconderanno tutto come è probabile che stia accadendo in Cina ecco questo è un rischio consideriamo anche questa ipotesi secondo me non è da scartare siamo ancora in una fase dove tante cose è possibile e che possiamo capire soltanto se abbiamo la pazienza di osservarla senza posizioni ideologiche di partenza senza esasperare sia dal punto di vista dell'ingrandimento delle cose sia dal punto di vista del minimizzare quanto sta accadendo relegandolo come dire allo stadio di una banale influenza siamo di fronte a un fatto grave che ci costringe a infermarsi che potrebbe avere come dice l'organizzazione mondiale della sanità una diffusione mondiale pandemica e quindi minare gravemente se poi questo tasso di mortalità deve essere confermato 3,4% attualmente ripeto insomma creare milioni di morti secondo l'organizzazione mondiale della sanità prevedeva rispetto a una possibile epidemia pandemia mondiale prevedeva qualcosa come 80 milioni di morti possibili questi sono dati come dire che dobbiamo tenere presenti non sono non sono la bibbia sono però diciamo degli strumenti da cui partire da tenere in considerazione cioè una possibilità a questa possibilità ci dobbiamo contrapporre privilegiando secondo me soprattutto la nostra salute e come dicevo quella nostra e quella degli altri con tutte le misure possibili per ridurre al massimo il contagio al di là della terapia per i casi acuti è l'epidemiologia che si deve guidare è il fatto di salvaguardarsi dal contagio sono le misure che dobbiamo prendere per non essere contagiati noi ma tenendo conto che siamo in un sistema globale in cui gli scambi avvengono continuamente credo sia impossibile creare muri o barriere per impedire completamente alle persone di muoversi e di avere rapporti tra di loro il pericolo maggiore che vedo per quello che riguarda noi in Italia è questa dialettica che si è creata tra il mondo degli interessi e chi cerca di salvaguardare la salute pubblica tra l'informazione che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità che alza il fattore di rischio dell'epidemia di coronavirus da alto a molto alto che vuol dire qualcosa consideriamo la fonte che ci dà questa questa informazione e il mondo degli interessi che invece tende a minimizzare a dire riprendiamo la vita normale perché tutto è possibile insomma ancora non è successo niente apriamo le scuole facciamo i commerci muoviamoci come se niente fosse e tanto però l'epidemia nel mondo cresce e se guardiamo insomma in questo momento quella mappa che ogni volta ci si mostra che è la più credibile insomma vediamo come quel rosso quelle aree così si stiano progressivamente segnino una linea che va dall'Europa alla Cina con in mezzo il Medio Oriente e poi comincino tanti puntini insomma ad emergere qua e là in maniera diffusa io rispetto a tutto quello che si dice che viene detto e queste cose qua terrei o tengo almeno personalmente a fare affidamento alle informazioni che vengono dalle fonti internazionali a quello che risulta alla fotografia che ne viene fatta in quella carta aggiornata giorno per giorno dei dati ufficiali e quindi sapendo che in tanti altri dati non ufficiali in paesi che hanno meno possibilità di fornire dati ufficiali o che hanno probabilmente regimi non non forniscono dati certi però insomma quella è la rappresentazione più veritiera che abbiamo in questo momento della diffusione della malattia nel mondo che risultano per me più credibili rispetto a quanto ci viene detto dai nostri governi oppure dalle nostre organizzazioni dalla Confindustria o da chi altro insomma che ha giustamente da parte sua interessi da salvaguardare è comunque un interesse rappresenta un interesse di fazione insomma e non so quanto abbia compreso quella famosa volontà di Dio insomma un saluto